Conferito oggi l'incarico al consulente tecnico della procura di Pescara, nominato con l'obiettivo di eseguire accertamenti sui telefoni cellulari trovati nell'ambito delle perquisizioni relative all'agguato che si è consumato la sera di lunedì 1 agosto al Bar del Parco di Pescara, ai danni di Walter Albi, architetto 66enne morto sul colpo, e di Luca Cavallito, 49enne, tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Gli accertamenti tecnici non ripetibili, in particolare, riguardano 15 dispositivi riconducibili a Cavallito. Il consulente tecnico, incaricato dal PM Andrea Di Giovanni, titolare del fascicolo contro i gnoti, dovrà occuparsi di estrarre copia forense del contenuto degli smartphone. Gli inquirenti hanno in mano due telefoni trovati sul luogo dell'agguato, uno recuperato a terra, presumibilmente, di Albi, e l'altro recuperato nello zaino di Cavallito. Il killer, invece, è riuscito a portare via il telefono che il 49enne aveva in mano prima di essere colpito. Al vaglio degli investigatori, anche computer e tablet trovati durante le perquisizioni, tutto porta a pensare che i due, il giorno dell'agguato, stessero aspettando qualcuno, avevano ordinato pizzette in quantità ed erano seduti sullo stesso lato. Fondamentale per gli inquirenti individuare la persona con cui avevano appuntamento. Degli accertamenti è emerso che, prima del fatto, Albi e Cavallito erano insieme da un paio di ore. Sempre in giornata gli inquirenti ascolteranno nuovamente i familiari di Cavallito per ottenere nuove informazioni e chiarimenti. Le condizioni cliniche del 49enne, tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, sono definite stabili. Il ferito è sorvegliato H24 dalle forze dell'ordine e di fatto il reparto è blindato, soprattutto dopo l'episodio dell'uomo che la scorsa settimana si è presentato in ospedale per chiedere con insistenza informazioni circa lo stato di salute del 49enne. Dopo l'autopsia effettuata venerdì scorso, i familiari di Valteralbi attendono la riconsegna della salma che non è ancora avvenuta.